Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo di un nuovo materiale, il Microlan. Il Microlan è una denominazione creata direttamente da Zampieri per definire questo materiale innovativo. Questo materiale lo si può applicare benissimo per ante, fianchi e schienali, anche per piani di lavoro o piccole aria snack. La finitura Microlan prevede ben 23 tipologie. All'interno troviamo anche la finitura Velvet con ben 5 tinte unite. La finitura Velvet è data da un metodo denominato laccatura a decimeri, ovvero un processo di laminazione a liquido nella superficie con effetto molto opaco, soft, simile al velluto. Da qui appunto nasce il nome Velvet. Tutti questi materiali che vi abbiamo presentato sono disponibili nei Livi e tutti i nostri modelli di cucina. Per sapere di più visita il nostro sito oppure ai nostri canali social.